Hanno dovuto aspettare che ero in diretta e live ieri sera per mandare l'ufficialità su OneFootball, la migliore applicazione per il mondo del calcio, la lascio qui vicino a me, di Nzonzi che sarebbe diventato un nuovo giocatore della Roma. Ragazzi io sono contento, sono veramente euforico e fu così che il Barcellona chiamò Nzonzi e disse oh vieni lui oh sì e si chiuse però ragazzi Nzonzi pare diventi proprio a breve, proprio a te, proprio in questo momento un nuovo giocatore della Roma. Ci si avvicina molto alla clausola di scistoria di 40 milioni di euro, la Roma andrà a spendere questi 33 milioni di euro di cui si parla tanto. Io ragazzi sinceramente non ci speravo nemmeno più, allora vi dico la verità lo so da 5 giorni, lo so da 5 giorni ma non ne ho potuto parlare perché ho avuto proprio il veto di parlarne, non parlarne mi hanno detto finché non c'è l'ufficialità, finché non ci vogliono i giornali e non parlarne. Lo so da 5 giorni, però ragazzi prima, prima dei 6 5 giorni non ci speravo più perché dovete sapere che l'ultimo giorno valido per il calcio mercato della Premier League una squadra inglese, una squadra inglese che non c'è dato a sapere chi però insomma uno si può farsi un'idea, avrebbe offerto 30 milioni di euro per il calcio di Nzonzi. E Zivi gli avrebbe detto no, se non offri la clausola non parti, ho detto Monci per un 29 anni non offrirà mai 40 milioni di euro, alla fine si riesce a chiudere, per il momento pare questo, intorno ai 33 milioni di euro. E' un cristone alto 1,96 m, è leggermente lento, forse questo è il difetto maggiore, però è un cavallo ragazzi, cioè in mezzo al campo non lo superi, è un mediano che però può essere impiegato anche come centrocampista centrale, quindi la Roma avrà una vasta scelta in mezzo al campo. Pensate ragazzi che questo l'ultimo anno ha fatto 44 partite, cioè capite bene che non si parla di, noi siamo abituati a prendere quei giocatori un po' trapassati, un po' infortunati, un po' spaccati, un po' che si devono rilanciare, questo ha fatto 44 partite, quindi è un giocatore che gioca tutte le partite, fu così che si spaccò, speriamo te no, vedo una grattata. Un giocatore pazzesco con i duelli aerei, ci mancherebbe altro, è alto 2 metri e un pino in piedi, passaggio al 100%, non sbaglia mai un passaggio ragazzi, non sbaglia veramente mai un passaggio, almeno finora. Quello che ha dimostrato è di saper, diciamo, centrare il compagno con il suo passaggio sempre, sempre, sempre. In questo momento che sto registrando, Gonalon è ancora un giocatore della Roma e ha detto che partirebbe solamente qualora arrivasse un'offerta da una squadra che fa la Champions League, visto che, insomma, non è sempre domenica, io sinceramente stento a pensare che qualche squadra, a meno che non sia magari una squadra che arriva in Champions dopo un mirale, una squadra a zera, difficilmente Gonalon troverà una squadra che lo farà titolare, che gioca in Champions League in questo momento. Allora, in questo momento la Roma sulla mediana c'ha De Rossi, Inzonzi e Gonalon, penso che Inzonzi verrà poi smistato anche come mezzalo, o comunque come centrocampista centrale davanti al mediano, poi staremo a vedere quali saranno le scelte di Francesco, perché sono contento, ragazzi, sono contentissimo, sono, se a me mi avessero detto, due anni fa, la Roma nella stessa sessione di mercato, tra due anni prenderà Inzonzi e Pastore e gli avrei detto, ma di che te fai? Ragazzi, Inzonzi è stato sempre al centro dell'Europa, è stato sempre al centro di tante chiacchiere, squadre che lo volevano, big club che lo volevano, sono contento, sono veramente molto contento, ora lui dovrà dimostrare a Roma di valere qualcosa, dovrà dimostrare a Roma di valere qualcosa, quella, la palla passa a lui, io il mio l'ho fatto, insomma, daje, daje Inzonzi, daje Inzonzi fammi vedere che sai, che sai fare, detto questo ragazzi, mi piace, un sacco di video di qui sotto, se volete un altro video su un'altra ufficialità, che ce ne sono tanto da caricare, vi ringrazio per aver visto questo video, iscriviti al canale, se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, buo ciao alla alla, e noi come sempre, ci vediamo ad un prossimo video! A presto! A presto!